E dopo la coloritissima Cartagena me sono spostato qui a San Gil, che è un paesino situato sui monti, molto molto caratteristico e veramente molto bello E devo dire che queste cittadine qua a me stanno veramente piacendo in una maniera pazzesca L'unico problema di essere appena arrivato in Sud America è col cibo o qualche problema Perché ero sempre abituato comunque da dopo l'Asia a mangiare pollo, riso, riso, pollo o verdura Questi tre piatti molto differenti l'uno dall'altro Invece qua mi sono scontrato col fatto che mangiano della carnaccia a tutto randello e non sanno bene cosa vuol dire la leggerezza quando si mangia Sempre molta ciccia, molto grasso, patatine fritte, impanata, che è buono eh Però si fa fatica a trovare altro a parte la frutta Per esempio adesso sono a pranzo e mi sto mangiando della bella carnaccia con delle patatine fritte La cosa più leggera che ho trovato, si chiama churrasco Comunque adesso vi faccio vedere tutta San Gil e dopo San Gil vi porto anche a Baricciara E dopo Baricciara vi porto con un trekking fino a Gane Qu'è? E poi? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.